In sei mesi abbiamo attuato il nostro programma elettorale, noi dicevamo prima gli italiani e in pochissimo questo lo stiamo realizzando, abbiamo cambiato i criteri di accesso alle case popolari. Agli estracomunitari che ci chiedono la casa non basta più che presentino un'autocertificazione che nella stragrande maggior parte dei casi in passato era un'autocertificazione falsa per lo stato patrimoniale all'estero, cioè le case che uno ha all'estero, ma devono portare la certificazione del paese d'origine attraverso i consolati e le ambasciate. Questa cosa che è una legge che c'è dal 2000 non la applicava quasi nessun sindaco in Toscana, nella Toscana Rossa, noi l'abbiamo applicata e tanti estracomunitari sono venuti nei nostri uffici a dire fino all'anno scorso presentavamo autocertificazioni da false, da quest'anno non possiamo più farlo e quindi neanche presentiamo domanda. E questo è un primo criterio. L'altro criterio che abbiamo messo è che chi si comporta bene, si è sempre comportato bene nella propria vita e non ha commesso reati, deve avere un punteggio preferenziale e così diamo un punteggio preferenziale agli incensurati. Quindi gli italiani in questo modo sono risaliti un po' nella graduatoria. Chiaro. Altra cosa. Veloce perché devo chiudere. Chi occupa le case viene escluso dalla possibilità di presentare domanda. Chi occupa non ci sta.